Che è Don Fran? Che è Don Fran? Che è Don Fran? Don Fran che successe cà? Don Fran? Don Fran, ah che è? Uh, guarda, a me fa godere quando perde il Napoli solo per Don Franco, ma neanche per il figlio. Per Don Franco! Che è? Che è Don Fran? Aspetta, Don Fran? Don Fran? Don Franco? Dov'è Don Franco? Dov'è? Dov'è Don Franco? Don Franco? Don Franco? Dov'è Don Franco? Dov'è? Dov'è? Aspetta, aspetta. Lo andiamo a cercare Don Franco. Lo dobbiamo cercare Don Franco. Non lo trovo Don Franco. Chissà, chissà il perché non lo trovo. Come vedete, la Juve. Oh, votre babà! Oh, votre babà! Sono al matrimonio, mi piglio il dolce! E invece ti sei preso il secondo, la fiorentina, bella. Ha il sangue, te la sei presa? Ha il sangue. E pensa, e pensa Don Fran, pensa le casualità della vita. Tu avendo un allenatore di merda, offendi Allegri, che quello fa un colpo schifo di Allegri o di Garzia, la casualità della vita ti fa perdere col soggio di Allegri, ti fa il tuo a uno buonaventura! Incredibile, incredibile. Incredibile. Mario Roe! Rudy Garzia! Rudy Garzia! Capisci, Don Fran? Comunque, adesso andiamo al Napoli. Ai napoletani, quelli che mi piacciono, raga. Detta come va detta. Ci avete provato fino all'ultimo, però il problema è il vostro allenatore. Nel vostro allenatore, cioè, non c'è niente da fare. Potete dire, fare quello che volete. Vi siete illusi con il Real. Quando il vostro allenatore non ha, praticamente, fatto un cazzo, la reazione l'ha avuta solo la squadra, e purtroppo, senza un allenatore, anzi, che ha messo in difficoltà il Real, ma adesso tornate con i piedi per terra, perché non avete un cazzo di allenatore. Io, ripeto, su un 2 a 1, Ozyman non lo levo neanche se perde una gamba mentre corre. Rimane in campo lo stesso. Usa il cazzo, piuttosto, per correre. Non puoi togliere Ozyman. Non puoi, non puoi. Cioè, è veramente scandaloso. Quando io vedo uscire Ozyman dal Napoli, io penso che sia una cosa scandalosa. Scandalosa. Cioè, senza un senso logico. Senza un senso logico. Ripeto, avete un allenatore di merda. Prima lo capite, meglio è. Se vi rimane quest'allenatore, ma per davvero, fra 30 o 40 anni, vi vincete qualcosa, perché vi sta distruggendo, vi sta annientando un gioco. Perciò, napoletani, fidatevi di me. Se vince la prossima, non dite, siamo tornati... No, no, questo è un allenatore di merda. Ringraziate la squadra, non il violinaio magico. Don Fra, che è Don Fra? Che è Don Fra? Oh, Napola, mamma mia, oh, Napola. Oh, Napola. Don Fra, che è? Che è? Pesce in mano, Don Fra? No, 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 no. Pesce in mano, no, Don Fra, no. Oh, pesce in mano. Pesce a rio. Frutto veng. A Fiorenti. Buona ventù. No, no, no. Don Fra, questo si chiama karma. Pare un po' da tuo figlio. Lui, quando c'è da sfottere, sfotte. Ma quando c'è da essere sportivo, lui lo è. Tu non lo sei? Ti prendi gli sfottò. Iscrivetevi al canale. Commentate. Fino alla fine. Forza Jung. Ciao Don Fra. Che è? Mario a noi.